è giusto perché adesso lei è ripagata facendo lei il suo osso è una vera cavalleriata in realtà andare in scena sarà prima da solo tutto solo è giusto no cioè la mia in questo momento vogliamo parlare ma scusa ma te lo riporto insieme ma questo è lui questa è la condizione della nostra famiglia anche quando io, lui e il suo nemico partiamo per qualsiasi gusto si fa per provare a tuttice per provare a tuttice per provare a tuttice per provare a tuttice è meraviglioso una roba